la proiezione internazionale del nostro Paese e che caratterizza anche questo decreto legge, ovvero ribadire le ragioni della ricerca di un framework multilaterale efficace nel quale collocare l'intervento nazionale, ovvero quello che qualifica la nostra azione di politica estera e acquista un valore peculiare questo tratto proprio oggi in un contesto internazionale caratterizzato da profondi e drammatici mutamenti geopolitici e strategici. È proprio da questo punto di vista, infine, che voglio ricordare il successo dell'iniziativa che l'Italia ha assunto in sede UNESCO per la realizzazione dei cosiddetti caschi blu della cultura, un modello di impegno internazionale a tutto campo che, accanto agli strumenti della forza e della sicurezza, è capace di rappresentare concretamente il tema della difesa del patrimonio culturale dell'umanità come aspetto fondamentale delle missioni di pace e di stabilizzazione, come peraltro è stato recentemente riaffermato dal Presidente del Consiglio Renzi di fronte all'Assemblea delle Nazioni Unite. Grazie. A questo punto diamo la parola al relatore per la maggioranza per la Commissione di difesa onorevole Andrea Causin. Prego. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, il decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali in cui sono impegnate le nostre forze armate è apparentemente un atto amministrativo, una scelta di bilancio volta a prorogare alcuni impegni che il nostro Paese ha assunto in sede internazionale. Tuttavia sappiamo che, almeno per due ragioni, non è così. In primo luogo perché l'assenza di una normativa a quadro, che ci auguriamo trovi compimento presto nell'arco della corrente legislatura, ci obbliga a procedere attraverso la modalità del decreto di rifinanziamento. E in secondo luogo soprattutto perché i drammatici avvenimenti che hanno sconvolto Parigi il 13 novembre scorso, rammentano a questo Parlamento in modo urgente e inequivocabile la ragione dell'impegno di tanti militari italiani negli scenari più delicati e difficili del pianeta. Gli attentati di venerdì scorso hanno violato l'integrità e la sicurezza della Francia, del popolo francese e anche dell'Europa e non c'è dubbio che di fronte a tanto orrore non si possa più parlare solo di misure di prevenzione. Siamo di fronte a un atto unilaterale di guerra, una guerra che sicuramente l'Italia non vuole, che non ha cercato, una guerra che ripudia secondo i principi morali della nostra Costituzione, ma con la quale, nostro malgrado, siamo e saremo sempre di più chiamati a confrontarci. Il livello di attenzione dei Paesi che partecipano alla coalizione internazionale in contrasto all'ISIS è altissimo. La cooperazione tra servizi, polizie e forze di sicurezza consente oggi di raccogliere e vagliare un numero altissimo di situazioni e di informazioni. E sappiamo che in Francia, soprattutto dopo l'attentato di Charlie Hebdo, queste misure erano stringenti. Tuttavia, in 33 minuti, diversi commando hanno colpito sette punti diversi della città con tecniche di guerra, in modo brutale e preciso, scegliendo appositamente luoghi non simbolici, colpendo invece la vita quotidiana delle persone. Potevano scegliere delle chiese, delle infrastrutture e comandi di polizia oppure un'ambasciata. E invece hanno colpito un bar, hanno colpito dei ristoranti, una sala da concerti, lo stadio e probabilmente un aereo su una rotta turistica un paio di settimane fa in Egitto. Luoghi di vita abitati da gente normale. Sicuramente un salto di qualità nella tecnica del terrore, perché ciò che fa più paura è essere colpiti nella propria quotidianità. C'è da chiedersi come tutto questo sia potuto accadere. Un attacco su vasta scala, come quello di Parigi, è stato preparato per tempo sicuramente, coordinato, necessita di approvvigionamenti di armi, di munizioni, esplosivi, mezzi di trasporto e un coinvolgimento di un vastissimo numero di miliziani. È possibile che nelle settimane precedenti i servizi francesi non abbiano avuto nessun sentore di ciò che stava per capitare? Siamo di fronte all'incapacità del sistema di sicurezza francese oppure siamo di fronte ad un salto di qualità della macchina del terrore. Io sono più propenso a considerare la seconda ipotesi, ovvero che la capacità logistica e tecnologica congiunta alla preparazione militare consentano in questo momento all'ISIS di farsi beffa dei nostri servizi di prevenzione. In Italia siamo consapevoli del fatto che c'è una grande esperienza di antiterrorismo. 25 anni di guerra sul fronte interno contro le Brigate Rosse e la criminalità organizzata hanno sicuramente consentito di rafforzare il nostro apparato di sicurezza. Servizi, Polizia e Forze dell'Ordine, Esercito hanno saputo in questi anni prevenire molti eventi drammatici. Questo lo sappiamo con certezza. Ma siamo sicuri che basti la vigilanza interna per metterci al riparo dal rischio che quello che è capitato a Parigi possa ripetersi anche in una delle nostre città? Io sono convinto di no. Mai come in questo momento l'impegno dei militari italiani è stato di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale. Il lavoro che stanno svolgendo nelle missioni di stabilizzazione come l'Afghanistan, il Libano, i Balcani, che sono quelle che vedono maggior numero di personale impegnato, oppure in quelle del mare arabo, dell'oceano indiano e del Mediterraneo, dove quotidianamente si contrasta la pirateria e l'immondo traffico di esseri umani, hanno contribuito e contribuiscono alla nostra sicurezza nazionale. Oltre che rappresentare un'opportunità per i Paesi in cui si interviene per uscire da situazioni di guerra, come nel caso dei Balcani, o da regimi che negavano ogni libertà e opportunità di sviluppo alle popolazioni locali, come in Afghanistan e in Iraq. Venendo al profilo legislativo del decreto, si tratta di un provvedimento di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali e reca una serie di disposizioni volte ad assicurare la partecipazione del personale delle Forze Armate e di Polizia alle missioni all'estero relativamente al periodo 1 ottobre 2015-31 dicembre 2015, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Congiuntamente il decreto disciplina i profili normativi, giuridici, amministrativi e contabili connessi alle missioni e al personale militare e civile che vi prende parte. Come noto all'Aula, in tema di partecipazione delle nostre Forze Armate e di Polizia alle missioni internazionali, si interviene ad oggi con lo strumento del decreto, poiché manca nella vigente Costituzione e negli strumenti legislativi in essere la disciplina che ne prevede l'impiego. Mi è d'obbligo a ricordare che la Camera dei Deputati ha di recente approvato la legge quadro sulle missioni internazionali ed è auspicabile che la rapida e definitiva approvazione da parte del Senato della Repubblica in lettura finale della Camera possa consentire, anche in virtù della complessità del quadro internazionale, che questa sia davvero l'ultima volta che si interviene attraverso il decreto di proroga di finanziamento. Nello specifico mi obbligo a relazionare all'Aura che il provvedimento in questione si compone di 12 articoli. Il capo primo, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa relative al 1 ottobre 2015 e al 31 dicembre 2015 in relazione alla proroga del finanziamento delle missioni delle Forze Armate e di Polizia, nonché le norme amministrative contabili previdenziali in materia penale. Il capo secondo, composto dagli articoli 8 e 9, reca le disposizioni in materia di cooperazione e lo sviluppo ai processi di stabilizzazione. Infine il capo terzo, composto dagli articoli 11 e 12, 10 e 11, reca le disposizioni concernenti alla copertura finanziaria. Oltre alle variazioni di carattere finanziario legate alla proroga basata sui tre mesi anziché sui nove, desidero segnalare che per esigenze operative non risultano più finanziate le seguenti missioni complessivamente per un minor costo di 38.176.818 euro. La NATO-Baltic Air Policing, la EU-MM Georgia, la EU-BAM Libia, relativa al personale militare alla Guardia di Finanza, la missione dell'Unione Europea e Repubblica Centroafricana. E sempre rispetto al precedente decreto risultano invece inserite le missioni. È una Formed e EUPOL COPS nei territori palestinesi. Venendo dunque al merito del decreto, desidero soffermarmi sui primi tre articoli che definiscono le tre principali aree di intervento che offrono un quadro qualitativo e quantitativo dell'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali. Lattivamente al periodo in questione si prevede l'impiego complessivo di 4.798 unità di personale delle Forze Armate di Polizia, per un costo complessivo previsto intorno ai 301.170.000 euro. In Europa è previsto l'impiego di 1.887 unità di personale, per un costo complessivo di 65.105.270 euro. Le due aree prioritarie di impegno in Europa sono i Balcani, dove le missioni dispiegate in Kosovo, Albania e Bosnia impiegano 619 militari, e le missioni navali del Mediterraneo che svolgono attualmente opere di pattugliamento, difesa dei confini, save and rescue dei natanti in difficoltà e contrasto al traffico di esseri umani, impegnando queste missioni navali complessivamente 1.264 unità di personale. In Africa, che è la seconda area prioritaria di impegno, è previsto l'impiego di 696 unità di personale, per un costo complessivo di 22.088.845 euro. 665 militari sono impegnati nelle missioni in Somalia, in Cono d'Africa e in Oceano Andiano, per contrastare la pirateria in un tratto di mare dove transita circa il 70% del traffico marittimo commerciale internazionale, inclusa una quota molto importante della Marina mercantile italiana. 31 unità di personale sono invece impegnate nella missione di stabilizzazione in Mali. L'Asia rimane l'area geografica di maggior impegno, con 2.842 unità di personale e un costo complessivo di 173.257.000 euro. 1.125 militari rimangono impegnati in Libano nelle diverse missioni di stabilizzazione. 750 sono impegnati nelle missioni della coalizione internazionale anti-Daesh, 31 nelle missioni dislocate in Israele e Palestina, 102 tra Qatar e Bahrain, supporto logistico operativo alle missioni dell'area asiatica. Desidero sottolineare che, contrariamente a quanto si era paventato, è invece previsto un impiego incrementale in Afghanistan con 834 unità di personale, per le ragioni politiche e operative che i ministri Pinotti e Gentiloni hanno avuto modo ampiamente di illustrare nel corso delle audizioni in Commissione. È prevista inoltre una spesa di euro 40.000, 1.798.000 euro in relazione all'esigenza di trasporto, truppe e profili assicurativi, all'acquisto di servizi di informazione e sicurezza e potenziamento del dispositivo navale. Per ragioni di tempo non entro nel dettaglio delle singole missioni, tuttavia nel corso del dibattito sia il relatore che il Governo immagino saranno a disposizione per fornire ogni informazione necessaria su richiesta. L'esame del decreto legge nelle Commissioni è avvenuto la settimana scorsa in modo spedito, nonostante la contrarietà manifestata inizialmente in particolare dai gruppi di sinistra italiana SEL e rispetto ad alcuni profili specifici dal Movimento 5 Stelle. È prevalse infatti la consapevolezza che sia preferibile in questo caso un esame celere in considerazione del fatto che i 60 giorni di cui il Parlamento dispone per la conversione, che scadono il 29 dicembre, coincidono praticamente con il periodo di validità delle norme. Nel complesso sono state apportate modifiche lievissime che riguardano solo l'elenco dei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione civile di cui è l'articolo 8. A tale elenco sono stati aggiunti il Nepal, Haiti e l'Ucraina. Il Governo si è poi riservato di svolgere un approfondimento per Laura su due emendamenti dell'On. Altini che prevedono un finanziamento maggiore per la missione di Ebrom. Le Commissioni competenti e sede consultiva hanno espresso tutte parere favorevole. La Commissione fa ricostituzione ha spesso parere favorevole con un'osservazione. Il Comitato per la legislazione ha posto una condizione. Sia l'osservazione della prima sia la condizione posta dal Comitato sono e attengono profili di correttezza sulla formulazione delle norme più che profili di merito. Si tratta cioè di rilievi condivisibili e corretti ma che non è stato possibile recepire nel breve tempo a disposizione. La Commissione bilancio si esprimerà invece per l'Aula. Mi avvio quindi a concludere. Il decreto in questione testimonia ancora una volta che l'Italia, con professionalità ed orgoglio, è in prima linea nel mondo per difendere i valori della sicurezza. Quella sicurezza senza la quale non è possibile alcuna forma di libertà personale. Ciò è maggiormente necessario oggi che il quadro internazionale è diventato maggiormente instabile e imprevedibile e si realizza attraverso l'impegno e la dedizione degli uomini e delle donne delle forze armate e di polizia. Desidero infine ricordare la testimonianza e l'impegno delle persone che hanno perso la vita nelle missioni internazionali e le vittime innocenti barbaramente trucidate a Parigi dai militanti dell'ISIS venerdì scorso. Mi sia consentito a questo riguardo un pensiero particolare rivolto ad una nostra connazionale, una mia concittadina, Valeria Solesin, che ha perduto tragicamente la vita nell'attentato del teatro Bataclan. Il nostro impegno per la sicurezza, anche per ricordare e per fare onore a queste persone, in particolare a Valeria Solesin, esiste proprio perché queste tragedie non debbano più accadere. La ringrazio. Intanto salutiamo studenti e insegnanti della Scuola Paritaria Santo Nofrio di Rimini che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. A facoltà ora di intervenire il relatore di minoranza per la Commissione Affari e Esteri, onorevole Emanuele Scagliussini, in facoltà. Prego. Grazie, Presidente. Vorrei in premessa esprimere il cordoglio e la vicinanza da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle alle famiglie delle vittime degli attentati di Parigi e alla famiglia della nostra connazionale coinvolta negli attentati. Dopo i tragici fatti di Parigi, siamo qui a discutere sul disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, mentre la stessa Francia, che ha subito gli attentati sull'onda emotiva, ha intensificato i bombardamenti in Siria.